Demon's Souls è stato uno dei protagonisti dell'evento di Sony dedicato alle console next gen ebbene si stiamo parlando di Demon's Souls Remake nella grandissima console next gen by Sony appunto Playstation 5 e sarà uno dei titoli in uscita al day one di questa console e siamo tutti eccitatissimi e ve lo posso dire anch'io Bluepoint Games, gli sviluppatori di Demon's Souls Remake vogliono dire solo una cosa qualità indissolubile, hanno già fatto dei bellissimi remake come Shadow of the Colossus oppure delle remastered come Uncharted The Nathan Drake Collection e sono tutte meravigliose per cui mi aspetto che questo videogioco sia davvero sfavillante al day one di Playstation 5 lo vogliamo in tanti ma ragazzi calmiamoci un secondo perché di questo titolo dobbiamo ancora scoprire tante cose alcune belle e alcune brutte e girovagando su internet ragazzi beh ho scoperto tantissime notizie soprattutto per tutti quelli che 11 anni fa Demon's Souls non l'hanno mai fatto beh ragazzi gustatevi questo video del perché prima di pre acquistare Demon's Souls Remake li scopriremo ragazzi di cotte e di crude ma bando alle ciance gustatevi il video e se vi è piaciuto beh ovviamente lasciate un like grazie mille a tutti e di principio voglio scagliarmi contro tutti quelli che oggigiorno adorano i Dark Souls ma 11 anni fa queste persone dove erano? perché ragazzi essenzialmente questo Demon's Souls nacque nel febbraio 2009 e sebbene la critica specializzata abbia lodato questo videogioco beh c'erano enormi pecche all'interno di questo titolo e ragazzi non vendette molto e a quel tempo From Software appunto si fece uscire questo titolo ma non ebbe molta fortuna perché? perché ragazzi la grafica era davvero molto dark le meccaniche erano davvero molto legnose il titolo era davvero molto difficile la lore, la storia come sappiamo non viene spiegata in questi titoli nel Souls-like devi cercartelo 11 anni fa ragazzi non facevamo queste cose 11 anni fa ragazzi Demon's Souls l'abbiamo letteralmente scartato eppure ragazzi adesso 11 anni di distanza i videogiocatori sono cambiati e ora siamo pronti a tuffarci in questa incredibile nuova avventura e nel primo punto ragazzi che questo ve lo devo subito dire tutto quello che era Demon's Souls essenzialmente è stato completamente totalmente rifatto ed è esattamente questo che significa fare un vero e proprio remake cioè attingere dal passato ma portarlo in salsa moderna per cui ragazzi basta grafica da PlayStation 3 basta grafica senza ombre, senza luci, senza sonoro basta gameplay legnoso basta comandi difficili ebbene ragazzi sono un lontano passato e adesso che ci siamo caricati beh entriamo un attimino più nel dettaglio di Demon's Souls vi va? le meccaniche di Demon's Souls e anche in questo remake ve lo devo dire amici non sono cambiate forse non tutti lo sanno perché in alcuni Dark Souls ragazzi questa meccanica è stata tolta ma in Demon's Souls più eri bravo più il mondo diventava come posso dire con toni chiari i nemici diventavano meno difficili da battere ma allo stesso tempo il loot la qualità del loot andava a diminuire caso contrario ragazzi morivate tante volte beh il mondo diventava sempre più scuro e i nemici diventavano sempre più aggressivi ma allo stesso tempo vi permetteva di lootare degli armamenti nettamente superiori rispetto alla controparte beh amici questa è una meccanica che negli altri Souls like non avete mai neanche lontanamente visto ma sta per tornare certo Blue Point Games gli sviluppatori devono ancora dire tanto ok ma io sto registrando questo video il 29 di settembre il titolo esce il 19 di novembre quindi mancano essenzialmente 40 giorni 50 per essere precisi e se pensate che un videogioco prima di uscire beh entra in Golden Edition ok all'incirca una trentina quarantina di giorni prima della data di lancio beh diciamo che il lavoro è bello che è finito per cui questa meccanica è stata ripresentata oppure no beh quello che abbiamo visto quello che state vedendo il gameplay che abbiamo visto essenzialmente è una tech ragazzi ma abbiamo già visto come sono cambiati essenzialmente tutto dall'illuminazione agli effetti particellari a ovviamente l'art style completamente totalmente rifatto ehi ma non per questo stravolto anzi direi che è molto fedele all'originale in tutto e per tutto semplicemente le texture sono decisamente più avanzate ma dobbiamo parlare di grafica e sebbene da Playstation 3 a Playstation 5 la differenza sia come dire terra e luna ok quindi una distanza enorme quindi enormi difficoltà quindi una difficoltà e anche due pianeti completamente differenti beh dobbiamo dirlo dal punto di vista grafico su Playstation 5 è splendido e io vi dico beh grazie al cavolo quello che però vi devo dire quest'oggi non è una notizia molto interessante soprattutto incoraggiante scusatemi e voglio parlare di esperti come Digital Foundry che si che sono degli esperti ragazzi che analizzano tutti i trailer e tutti i videogiochi e udite udite sembra che questo titolo Demon's Souls Remake non riesca a girare in 4K a 60fps nelle console next gen ma essenzialmente esistono due tipi di versioni su cui noi possiamo scegliere ok una chiamata performance dove si va in una risoluzione di circa 1440p puntando ai 60fps mentre un'altra più appunto puntata alla grafica dove si andrà verso il 4K 30fps questo ragazzi non sappiamo se è una limitazione della console oppure essenzialmente beh stiamo parlando dei primi titoli ci vuole ottimizzazione ci vuole anche capacità degli sviluppatori per poter creare il miglior gioco in assoluto per quella console per cui ragazzi mettiamoci tutti tutte le virgolette che volete sappiamo che all'interno del titolo non ci sarà il ray tracing sappiamo che le velocità di caricamento di questo titolo su playstation 5 saranno praticamente istantanei si parla di circa 1-2 secondi sappiamo però che una notizia del genere potrebbe fare storgere il naso a molti di voi appunto che si aspettavano il 4K 60 frame per second ragazzi in un titolo come questo essenzialmente i 60 frame beh diciamo che non sono esattamente necessari ok basta che siano marmore e anche solo 30 ragazzi basterebbe e avanzerebbe comunque sia dal punto di vista della tessellatura dal punto di vista dell'art style dal punto di vista delle texture delle ombre degli effetti particellari siamo davvero su alti altissimi livelli bisogna solamente vedere se Bluepoint magari con qualche patch riuscirà a tirare su un po' i frame e ottimizzare il suo titolo ma essenzialmente ragazzi beh sappiate una cosa il 4K a 60 frame per second anche sulle console next gen potrebbe arrivare un po' a fatica ma ora rituffiamoci un attimino su altre parti che davvero ci convincono tantissimo sulla bontà di questo prodotto e sto parlando del controller DualSense appunto del gameplay di questo titolo e del nuovo controller di Playstation 5 questo gamepad grazie al suo feedback haptico tradurrà la sensazione dei colpi andati a segno sui nemici o dell'esecuzione della magia in un feeling tutto unico ragazzi essenzialmente non sappiamo questo come si tradurrà se in un in qualche tipo di vibrazione in qualche tipo di altra sensazione tattile comunque dobbiamo sottolineare che alcuni youtuber alcuni ragazzi giornalisti della critica specializzata hanno provato appunto questo nuovo gamepad e lo devono dire il feeling di poter diciamo colpire un nemico il feeling della spada che si infrange contro lo scudo beh non è esattamente plastico dicono che ci sia un bel responso anche dal punto di vista non solo del videogioco ma anche dal punto di vista del sonoro ragazzi il che è davvero molto importante appunto una sensazione di gameplay completamente differente da quello che abbiamo provato sul Demon's Souls oppure su Dark Souls 1 ok meno durezza ma un combattimento all'arma bianca che ti provoca qualcosa nella pelle qualcosa nelle ossa qualcosa come videogiocatori senti la durezza del personaggio sentirete anche la pesantezza del vostro personaggio perché si ragazzi in Demon's Souls c'è anche il fattore peso sentirete il mondo sentirete il sonoro sentirete la spada che si infilza nella carne del vostro nemico tutto questo ragazzi è assolutissimamente un qualcosa di impagabile indubbiamente è un titolo esclusivo a Playstation 5 che farà felici molti di voi e che come abbiamo visto è stato completamente totalmente riscritto per le console next gen il che ovviamente ci fa pensare che questo titolo sia davvero di alto altissimo livello quarto punto e dobbiamo parlare di DLC si lo so ragazzi state calmi so perfettamente che in Demon's Souls Remakes non ci sarà nessun DLC ma udite udite nella versione del 2009 appunto Demon's Souls beh i dataminer hanno trovato che i mondi a disposizione di questo gioco non sono 5 ma erano essenzialmente 6 il sesto mondo si chiamava mondo dei giganti e se andate nel lab di gioco centrale noterete che c'è una specie di pilone spaccato ebbene ragazzi quello doveva essere un DLC quello doveva essere un'espansione quello doveva essere il sesto mondo di gioco non sappiamo se Bluepoint Games magari l'ha inserito non sappiamo se la storia ragazzi ha subito modifiche non sappiamo ragazzi se sono stati aggiunti luoghi quello che vi posso dire è che c'è questa eventualità c'è questa possibilità e sappiamo anche ragazzi per via del tempo che passa ok che magari molti videogiocatori vorrebbero anche in qualche modo un comparto P versus se oppure P versus P come è successo ad esempio su Bloodborne oppure sui Dark Souls quindi anche una componente multiplayer cicciosa e importante ci sarà non ci sarà amici io vi sto semplicemente elencando tutto quello che noi vorremmo e tutto quello che ovviamente un gioco moderno dovrebbe presentare dopodiché ovviamente io vi invito in un prossimo video su Demon's Souls Remake dove ovviamente spero che nel giro di 30-40 giorni avremo molte più informazioni ma essenzialmente ragazzi beh potrebbe esserci molto di più in questo Dark Souls Remake di quanto in realtà non sia veramente stato questo titolo nel 2009 e quindi che dire ragazzi avete visto quattro importantissime notizie che sicuramente hanno già iniziato a pesare nella vostra scelta se comprare o no questo titolo e io sicuramente lo voglio comprare ma aspettatevi un altro video su Demon's Souls per cui iscrivetevi rimanete sintonizzati e noi ci vediamo in un prossimo mega video ciao belli